Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico Roberto Dauria che spero di incontrare presto. Il film di cui vuole che parli è del 1982 del grandissimo Samuel Fuhler. Il film è Cane Bianco, uno dei film che da ragazzino mi faceva più paura ed era con questo cane addestrato dal suo padrone per attaccare gli afroamericani. Che viene investito all'inizio del film dall'attrice Julie Sower che comunque non sa di tutto questo e quindi lo porta a casa. Nonostante il parere del fidanzato contrario però il cane la difende praticamente da un aggressore quindi lei lo vuole tenere con sé a tutti i costi. Il cane scappia di casa e ammazza un camionista nero e anche sul set praticamente dove Julie porta il cane anche qui attacca praticamente un'attrice nera. E quindi la nostra decide di portarlo a un addestratore che non lo vuole e un addrettatore invece di colore decide guarda ci penso io e ci provo io finché non ci saranno poi le conseguenze continue di questo film. Il film come ho detto è tacciato di razzismo quando in realtà tutto l'intento di Samuel Fuhler è il contrario ma è chiarissimo non riesco a capire come hanno fatto a tacciare di razzismo un film del genere che andò su via cavo dopo che uscita il cinema proprio perché la gente era incazzatissima. Questo è un film invece girato un'altra volta magistralmente da un grandissimo Samuel Fuhler che porta sulla faccia di tutti l'impossibilità di cambiare un certo tipo di società. Questo cane bianco appunto è in realtà questo white dog è un'allegoria di tutta un certo tipo di America che praticamente ha nella violenza e nel razzismo una cosa in sé, una cosa che non può cancellare, una cosa che fa parte del loro DNA. Questo film fortunatamente lo dice chiaramente e direttamente e evidentemente appunto in America non avevano voglia di sentirsi solo dire hanno fatto cambiare praticamente completamente l'idea del film. E visto che comunque Fuhler e tutti hanno detto ma come è tratto da un libro antirazzista, un film antirazzista me lo fate far sapere razzista perché il cane ammazza neri ma non è giusto, è sbagliato. Quindi è un film assolutamente fuori di cervello per il grandissimo Samuel Fuhler che come al solito si era fuori comunque un soggetto non originale di più. Tratto dal romanzo di Roman Gray che anche esso è molto bello ma qui si tratta di un film che è diventato storia in un certo senso, un film di quelli che si riuscivano a vedere sporadicamente, uno di quei film che vengono cancellati ogni tanto perché come se non esistesse Samuel Fuhler tra l'altro è uno dei migliori registi americani al mondo e anche lui è stato abbastanza cancellato. Ma qui ci troviamo di fronte comunque a un thriller bello teso, crudele, violento con una costruzione della tensione che ricalca quella di Cicocchiana quindi in un certo senso a volte quella di Brian De Palma a volte anche quella del cinema italiano. E adesso fortunatamente in tutto il mondo il film è considerato un grande cult perché nel fa è uno dei primi film di 40 e 4 anni fa che attaccava i razzisti in maniera diretta proprio in maniera in questa diretta e incredibile e metteva sempre di fronte Samuel Fuhler come ho detto a chiunque vivesse nel mondo che l'impossibilità in realtà al 90% che l'America non nascesse e non crescesse sul sangue e sul razzismo e quindi che è una cosa endemica, una cosa che non può assolutamente cancellare in un certo senso. E quindi tutta l'allegoria funziona alla stragrande, certo ora sono passati 42 anni quindi ogni tanto magari il tutto suona un pochino più forzato di come era all'epoca ma resta comunque un grande film con una grande tesi, con una grande regia che non è per niente appannata di un grandissimo Samuel Fuhler. Ottima poem Christine Nicole a fare Julie, così come Paul Winfield a fare Case, ottimo anche Bar Lives a fare Courteous, l'altro medestratore che sul finale insomma succederà un casino. Per un film comunque fatto benissimo, montato da Dio, con delle musiche stratosferiche di un grandissimo Ennio Morricone che riesce veramente a creare tantissima tensione, un film teso, un film dove l'ansia cresce sempre di più, un film dove non si vuol credere che l'umanità arrivi a trasformare addirittura un cane in un razzista. E quindi è un film difficile in un certo senso, che pure è diritto, è diretto, entra nel genere, non si sporca, non ha paura di sporcarsi le mani con lo stesso e appunto per questo vale ancora il doppio come messaggio politico e sociale. Un film portentoso, antirazzista che fu scambiato, anzi per essere razzista, ancora non riesco a capire come sia possibile, per un film ripeto che è andato a scomparire, un film che non ci volevano far vedere che la Paramount cancellava da tutte le parti e che fortunatamente ormai è veramente un caltone e quindi si può trovare. Ed è veramente una grande visione perché Sam Fuller, come ho detto, è un genio e questo film ne dimostra tutta, tutta la sua forza. Il link è qua sotto, donatevi su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante, grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccia, giro per l'Italia e lo rivio. White Dog, cane bianco, è un film degli anni 80, completamente fuori dai suoi tempi, che mostra cos'è il razzismo, mostra tutta la violenza di un certo tipo di America, lo fa allegoricamente attraverso un cane bianco che però trasfigura, diciamo, la parte bianca. Ecco, diciamo, del mondo americano che è razzista dentro e forse neanche lo vuole ammettere.